buongiorno buongiorno buon lunedì buon inizio settimana buona colazione buon tutto buona vita e chi più ne ha più ne metta signori miei siamo nel classico solito consueto ripetitivo recap riassuntone della serie a quando mancano tre giornate alla conclusione allora classifica calendario lotta scudetto lotta salvezza lotta per l'europa tutto è di più non ci sfuggirà nulla ecco perché vi invito a seguire il video dal primo all'ultimo minuto andiamo insieme passeggiamo in compagnia non mi ha abbandonato in questo in questo tragitto in questo viaggio partiamo certo prima come al solito domandone chi vince lo scudetto adesso me lo dovete di avete detto l'avete scritto no fatelo 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 e via prima di partire vi invito come al solito a lasciare un like se questo contenuto il recap riassuntone della serie a vi aggrade ne volete sempre altri sempre altri ne rimangono altre facciamo queste ne rimangono altri due o tre ne rimangono altri due poi stop sì teoricamente sì vi invito anche a iscrivervi al canale per seguirli i prossimi contenuti e cosa non meno importante ma ormai lo sapete già l'app che vi permette sempre di rimanere lì attivi aggiornate no la notifichina push e sì sai perché la notizia l'aggiornamento stare lì sempre on time sempre sul pezzo per non perdervi nulla veramente one football highlights serie a qualsiasi competizione tutto e di più link in descrizione o qr code per scaricarla e portarla all'interno del vostro device gratuitamente sì ecco perché insisto che fa insi sì insisto perché gratuito e quindi via primo colpo d'occhio alla classifica classifica che si muove che non rimane mai ferma e sì ebbene sì perché ogni partita si aggiungono o tre o uno o zero punti per cui qualcosa per forza di cose si muove senza ombra di dubbio e come vedete il passo avanti chi lo fa chi l'ha fatto il vero passo avanti credo la samp ovviamente sì ma io ci aggiungo anche la lazio con la vittoria ragazzi contro lo spezia e poi per il resto si intervincono anche la stessa vengono tutte napoli juve hanno vinto hanno vinto tutte lì lì davanti e questa è la classifica ma adesso andiamo per gerarchia e partiamo dalla dalla lotta salvezza partiamo da quella vediamo quella che la classifica delle ultime quattro ritroviamo un venezia che ha perso le ultime nove qui vengono segnate le ultime cinque ma sono nove sconfitte consecutive e stiamo parlando di una squadra che molto ma molto probabilmente è già e ha già un destino segnato quando poi in realtà la classifica teoricamente potrebbe anche dire alto perché ci sono ancora nove punti disponibili anzi anzi per il venezia sono 12 ma sappiamo che con questo rendimento difficilmente si può fare altro inguaiato il genoa con la sconfitta contro contro la samp nel derby una partita toccante sotto il punto di vista delle emozioni le lacrime sia da udero da una parte sia di 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 del odio del capitano crescito dall'altra chi chi piange di gioia chi di sconforto è un derby che che vale la salvezza un derby che vale la retrocessione un derby che vale la stracittadina un derby che molto probabilmente è valso tutto tutta la stagione incredibile ma vero partita che ho commentato e voglio commentarne sempre di più di questa sfida per la salvezza perché come vedete tutto ancora in discussione ennesima sconfitta del cagliari la salenitana che in realtà gioca stasera e allora vediamola vediamola vediamolo questo calendario calendario che lo dico chiaramente almeno lì in alto secondo me conta poco forse qui in basso può dire tanto poi in realtà faccio fatica a valutarle alcuni alcuni impegni no se penso allo stesso genoa che affronterà juventus e napoli che sulla carta sono proibitivi però arrivano in un momento magari dove non si giocano nulla sia l'una che l'altra allo stesso tempo se penso al venezia stesso che ho detto è praticamente fuori sì se vedo le ultime partite no se vedo il calendario perché teoricamente se può giocare sia con la salenitana che col cagliari e se le vince entrambe ragazzi mica mica male però io se devo rientrare poi nel merito e nel pensiero personale vi dico che il venezia difficilmente può fare il miracolo per me è già segnata quest'anno anche il genoa e in b ripeto sempre parere personale il derby il derby uscirne proprio sconfitto per me è una mazzata troppo 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 pesante perché di fatto samp doria e spezia come vedete sono sono salve adesso praticamente praticamente salve e altrimenti la samp poteva essere risucchiata invece con il derby dove tra l'altro come ho già detto che ho con visto che ho commentato io non capisco come la samp si stia qui a parlare di salvezza per la squadra che ha ma anche il cagliari stesso è una squadra che secondo me ha ben poco a che spartire pure eppure quest'anno sono in quella situazione là il campo dice questo è il campo difficilmente mente difficilmente sbaglia difficilmente ti dice delle bugie ecco perché la salernitana ragazzi miei attenzioniamo nel calendario perché stasera gioca con l'atalanta però poi ci sono venezia cagliari empoli lo stesso di nese all'ultima partita la salernitana ragazzi è anche quello che dice la classifica e ritorniamo paradossalmente il padronato è il proprio destino nonostante poi ad oggi sia sotto però due partite in meno quindi incredibile ma vero viene da tre vittorie consecutive ripeto il cagliari con la sconfitta contro il verona che faccio i miei complimenti al verona perché su squadre che non non si scansano cioè ormai quest'anno se la giocano ogni squadra vuole vincere squadra si gioca la propria partita ogni squadra da 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 il suo è anche il motivo per cui vediamo anche questa classifica il verona che al nono posto incredibile incredibile ma vero lo direi se stesso 43 punti tanta 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 roba comunque ad oggi per concludere io dico venezia genoa in b salernitana 51 per cento salva cagliari 49 per cento salve e sfida cagliari salernitana per me vediamo quello che che succede fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi andiamo alla lotta per l'europa e anche qui ragazzi ci si diverte anche qui ragazzi abbiamo tante cose da dire tante cose da raccontarci come ho detto prima il verona che si trova lì ragazzi quasi a solleticare quasi lì a fare il solletico all'atalanta che deve vincere stasera per dare un senso per dare un senso e per lottare per questo quinto sesto posto perché poi con una vittoria sarebbe comunque a 58 punti e insieme a roma e lazio se la giocano se la giocano sino sino alla fine però tutto passa attraverso la vittoria di stasera con la salernitana che non sarà non sarà semplice secondo me è una partita che voglio vedere adesso veramente vanno seguite queste partite qua perché ogni partita e ogni partita ci si gioca tanto e ogni partita sposta e di tanto anche quelle che sono le ambizioni risultati finali di una stagione in atalanta ragazzi clamorosamente da una poteva essere la stagione dove potevi portare a casa qualcosa se pensa al calcati in europa league e invece potrebbe diventare l'annata dove oltre a non portare nulla abbandoni anche l'europa è strano a dirlo strano strano a dirlo strano veramente ecco perché deve fare una gara serissima e deve lottare fino alla fine sta squadra qua deve deve provare la fiorentina al settimo posto la fiorentina clamorosamente si sta perdendo in un alla fine poteva addirittura veramente portare a casa un poste europeo può ancora farlo e la classifica dice questo non è che la stiamo dando per spacciata però senza ombra di dubbio l'inerzia adesso mi sembra mi sembra un tantino diverso mi sembra mi sembra che siano cambiate un po' un po' le cose anche perché rome e lazio secondo me sono lì sono al quinto sesto posto e difficilmente difficilmente molleranno tutto ecco sono punto a punto rome e lazio bello sto duello io io voglio vedere chi arriva davanti a fine stagione io io francamente voglio voglio vederlo voglio vederlo in tutto ciò c'è una roma che si sta giocando anche l'accesso alla finale di conference e quindi è una partita che come abbiamo visto sposta un po' perché ha dovuto ha dovuto magari fare turnovere l'ha fatto ecco sì che l'ha fatto contro il bologna dove dove ha portato a casa un un pareggio e d'altro canto il bologna che comunque le sue partite se le gioca sempre e quindi bella 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 sta sfida tra rome e lazio bella sta sfida per il quinto posto tra tra rome e lazio occhio perché potrebbero ancora ripeto ritornare fiorentina atalanta alla carica però io vedo rome e lazio adesso vedo rome e lazio che se la lottano loro questo questo posto per per l'europa league e per la conference vediamo vediamo quello che dice il campionato e quello che dirà il campionato da quella fine io forse vedo un po la lazio avanti forse vedo un po la lazio avanti anche se vediamo vediamo difficile sbilanciarsi è molto 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 difficile sbilanciarsi andiamo avanti le prime quattro è praticamente matematica anche acquisita l'avevamo già detto almeno su questo canale ma penso in linea generale lo sapevamo juve napoli inter milan da qualche giornata a questa parte si sapeva non potevano sfuggire a quello che era l'obiettivo minimo raggiunto da parte di tutte e quattro ed è un obiettivo che è stato ripeto ancora una volta raggiunto la champions ebbene sì adesso ci si gioca il piazzamento migliore perlomeno napoli juve quanto conta per un tifoso del napoli della juventus arrivare sopra l'avversario sopra sopra alla sopra l'avversario appunto quanto conta ve lo chiedo a voi se ci sono juventini napoletane ve lo chiedo a voi quanto conta perché alla fine per come la vedo io ormai alla fine della fiera terzo quarto posto non credo cambi di gran che la prospettiva per come per come la vedo io però voglio capire all'occhio del è al cuore alla pancia del tifoso se cambia o sposta qualcosa nella considerazione nella testa appunto del 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 tifoso arrivare avanti magari ad un avversario napoli per la juve e la juve per il napoli quanto quanto conta io chi vedo avanti tra le due forse napoli perché la juve si concentrerà anche un po anche un po sul sulla finale di coppa italia il napoli non avendo adesso chissà cosa pensare le sue partite se le giocherà e magari non inciamperà più quindi io ad oggi forse dico napoli terzo juventus quarta però francamente non non lo so onestamente però do un piccolo vantaggio al napoli fatemi sapere anche voi in questo in questo caso cosa ne pensate anche perché napoli viene da una vittoria importante 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 no perché non oddio dava l'acquisizione matematica alla champions che comunque sarebbe arrivata per come la vedo io però una vittoria netta 6 a 0 vittoria netta la juventus invece se ne è dovuta comunque sudare contro contro il venezia quindi vediamo quello che succede nelle partite finale c'è la sensazione che qualche giocatore abbia anche un po può darsi anche un po staccato non lo sappiamo vediamo un po andiamo alla lotta scudetto milan inter hanno vinto entrambe il milan ha battuto la fiorentina l'inter l'udinese incredibile ragazzi testa a testa scudetto che si gioca appunto appunto il milan ha un bonus un bonus che comunque in questo momento secondo me vale vale tanto e vale qualcosa cioè quando è un bonus da da giocarti vale senza ombre di dubbio vale senza ombre di dubbio qualcosa significa il calendario ve l'ho messo la per me il calendario conta nulla in questo momento vi dico la per me è una gara di nervi una gara sì che si gioca nella testa il calendario conta poco perché teoricamente cioè vedi il milan ha vinto contro la razza e contro la fiorentina fiorentina ha perso l'altro giorno 4 a 0 con l'udinese l'udinese che veniva comunque da un momento di forma perso ora teoricamente il verona lo vedo e lo percepisco come avversario più ostico rispetto all'empoli questo è vero senza ombra di dubbio sì però poi vedi c'è il cagliari che si deve giocare la salvezza l'atalanta che non sappiamo come ci arriverà quella sfida là nel mentre l'inter affronterà comunque la finale di coppa italia non lo so francamente in linea teorica è vero vedo sempre un po' difficile sempre più difficile quello del milan devo essere sincero sempre sulla carta ma ripeto adesso come mai la carta la carta può essere stracciata facilmente per come per come la vedo io e poi ripeto il bonus del il bonus del vantaggio ricordiamo che a parità di punti il milan vincerebbe lo scudetto questo è un bonus non non da poco la prossima partita visto che piace anche dirlo e considerarlo la prossima partita per esempio giocherà l'inter prima questa volta per esempio è capitato il contrario è giocato prima il milan e poi l'inter questa volta l'inter dovrebbe giocare no dove giocherà prima vista appunto e considerando che ha la partita di coppa italia da affrontare la finale di coppa italia l'inter giocherà venerdì il milan giocherà domenica e quindi potrebbe pesare magari un eventuale vittoria delle dell'inter contro l'empoli attenzione come si dice copescio della medaglia se non vince con l'empoli però in linea teorica se non vince con l'empoli giusto anche dire ciao ecco senza ombra ombra di dubbio senza levare nulla all'empoli che sta facendo e chi ha fatto un'annata clamorosa chi le avrebbe dato qualche qualche spiccio e invece sono lì e gli fa i complimenti così come li facciamo al verona di tudor che comunque anche loro hanno fatto una grande annata ragazzi che dire io oggi dico 60 60 65 in teoria 60 65 milan 35 40 inter questa è la mia percentuale scudetto ecco una favorita c'è per me ed è il milan perché quando sei padrone del proprio destino a tre giornate dalla fine e poi anche sbagliarne una sbagliarne pareggiandone una non perdendola sei favorito ecco per me è così e lo sei con merito attenzione che sia chiaro ma vediamo quello che quello che succede perché può succedere ancora di tutto io devo essere sincero confido ci credo una speranza ce l'ho speriamo che per quanto mi riguarda resti viva però voglio sapere cosa ne pensate anche voi va bene un grande abbraccio ragazzi miei grande abbraccio buongiorno buon lunedì per me è notte fonda ragazzi miei i miei pensieri come al solito buttate lì alla rinforza facciamo un nome facciamo un nome perché arriva al minuto 18 19 un nome lo facciamo il primo che mi viene in mente sepaglios mi viene in mente sepaglios che significa non lo so neanche ma l'ho buttata là un grande abbraccio danesco